In studio, con i miei allievi, lavoro così. Vieni a vedere. Qui c'è, proprio. Vedi che viene fuori così. Sì, come no? Ma è forse perché... Che avete paura. C'avete paura, ragazzi, non dovete avere paura. Che cosa? Osate, osate. Nella vita bisogna osare. Anche nella pittura. Anche nella pittura. Qui c'è il bianco, io lo do. Ed ecco che comincia a avere... Vedi che viene fuori? Sì, sì. Accendi la luce, accendi la luce. Poi la bolletta la pago io, diceva uno. Sì, però, ecco, questa è una foto che io avevo fatto. Perché Michelangelo era... Merisi, eh? Era grande. Perché sapeva osare. Perché era un temeraio. Non aveva paura. Sì, sì, ho capito. Cioè, non voglio fare... Sì, gli pagano la bolletta. Questo è bello. Sì, magari potrei anche, però... Sì, perché questo è un po' più vicino, però... Eccolo. C'è. Fallo. Adesso però mi servirebbero... Ecco, lo straccio. Io il pennello lo pulisco e a questo punto... Lo pulisco dal colore e c'è una spazzoletta. Altri usano quei pennellini... Come si chiamano? I pennellini a ventaglio. Però... Non lo so, almeno... Sì, sì. Se devi fare un cielo... Qui c'è un po' di luce. Perché non dargliela? Posso venire? Aspettatevi un po'. Sì, sì, prego. In diretta. Sei in diretta. Sì. In diretta. Wow. Qui, perché non aggiustarlo questo? È certo. Il tuo apparente. Chi? Il tuo apparente. No, è un'esercitazione che stiamo facendo. Una fotografia presa così. Questo è un esercizio che è partito... Poi, però... Cioè, io vedo... Allora, qui... Sì, dimmi. Qui, lo vedi che c'è una luce... C'è una luce... Riflessa? Sì, sì. Importante. Importante. E qui non me l'hai... Dammi un pennello più piccolino. Eh, com'è? Siamo in diretta. Siamo in diretta. Scusa. No, ma non ti si vede. No, si vede solo il... Si vede solo il lavoro. Ma si sente. Si sente, sì. Questo? E che è successo? Non mi che è successo, sì. Pennello piccolino? Fammi vedere. Sì, dovrebbe andare... È pulito, sì. Aspita. Che bello sto... Sì, i pennelli sono meravigliosi. Ma li hai fatti comprare tu? Sì. Sono proprio belli, belli. Allora, sono leggeri. Lo straccio. Eccolo qua. Allora, qui... Ah, insomma... Vabbè. Un po' umido. Poi... Visto che ci abbiamo... Quello è importante, veramente. Sembra una fesseria, ma è importante. Vedi che lo tira fuori? Cioè, lo tira fuori subito. Anche qui... C'hai delle luci... C'hai delle luci... Sì, sì. Riflette. E qui... Tac... Sì, sì. E un po' più fuori. Certe volte i dettagli sono quelli che ti... Ti caratterizzano immediatamente il lavoro. Qui ce l'ha e qui... Beh, qui il disegno... Cioè, così tu puoi disegnare la... Cioè, questo è così. Ed è così. E poi va sfumato. Adesso va sfumato. E qui deve... Lo stai disegnando. E io sto disegnando perché mi serve. Cioè... Qui ce ne vuole un po' di più. Qua so... Guarda quanto ce n'è qui. Uh, tanto. Poi pulisco il pennello e rifinisco. Una volta che c'ho il pennello pulito... Sfumo lo stacco. Uno. C'hai paura di te rovinare col quadro, eh? No, 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 no. C'avevi paura. Io posso... Cioè, dillo che c'hai paura. E tu hai scherzato. Figura del maestro. Qui gira un sacco di luce. Adesso forse ho esagerato. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo. Lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9 e mezza di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu! Vieni anche tu! друг Grazie a tutti.